ciao ragazzi oggi vi farò vedere come si può collegare ad un pc portatile un monitor secondario che non sia un monitor standard ma un tablet o un telefono cellulare uno smartphone quando ci troviamo in giro per lavoro con il nostro pc portatile spesso ci chiediamo perché non posso collegare il mio dispositivo al mio computer beh da oggi esiste un'applicazione molto comoda e soprattutto gratuita che si chiama space desk che ci permette appunto di collegare in remoto attraverso la connessione wifi il nostro tablet o smartphone al nostro pc portatile la cosa fantastica di questo software gratuito che ci permette di collegare più dispositivi contemporaneamente a prescindere che si siano windows android o ios ma vediamo subito come funziona una volta installati i driver sul pc portatile basterà semplicemente installare la relativa app sul nostro dispositivo android smartphone oppure ios come ad esempio un tablet o un mini ipad una volta settate le impostazioni base che riguardano la risoluzione del nostro monitor secondario la qualità dell'immagine e la possibilità di comandare le funzioni attraverso il touch screen basta selezionare il dispositivo del pc portatile in rete e il gioco è fatto la modalità è quella dello schermo esteso più monitor e se installiamo l'applicazione su più dispositivi possiamo addirittura avere un secondo ed un terzo monitor aggiuntivo nel nostro caso utilizzando adobe premiere pro possiamo utilizzare ad esempio il nostro tablet come monitor di preview dei nostri video e lo smartphone come estensione dello schermo e quindi visualizzare all'interno di esso un pannello del nostro progetto a oggi il nostro studio di montaggio ci seguirà sempre ovunque noi andiamo buon lavoro e ricordatevi di sottoscrivere il canale per restare sempre aggiornati sugli ultimi video ciao